2.102 degli onorevoli Nesci ed altri concernenti intendimenti in merito ad una revisione del piano di riduzione delle prefetture anche in relazione alla necessità di garantire il controllo e la sicurezza dei territori periferici. Onorevoli Nesci, prego. Grazie Presidente. Signor rappresentante del Governo, dopo i tagli da macelleria alla sanità, alla scuola, ai trasporti e alla giustizia, il Governo colpisce ancora la sicurezza e l'ordine pubblico. Mi riferisco al piano del Governo che prevede entro il 2016 soppressione a corpamenti di prefetture in tutta Italia, con la scusa del risparmio. Questa soppressione trascinerà questure e sedi dei Vigili del Fuoco. È il solito gioco della menzogna. L'esecutivo targato PD cancella diritti e servizi, ma racconta l'opposto con i media asserviti. La verità è che tali razionalizzazioni, come le definiscono i burocrati del sistema, colpiscono sempre i cittadini comuni, costringendoli a vivere ogni giorno male, a campare distenti, a spendere i loro risparmi per raggiungere uffici e ospedali lontani, e persino per comprare la carta igienica delle scuole. Come sappiamo, in questo Parlamento, la causa reale della crisi, di cui tagli sono conseguenza, è il debito pubblico. Esso è creato esclusivamente dal fatto che la banca privata, la Banca Centrale Europea, stampa denaro dal nulla e lo presta allo Stato, che a sua volta lo restituisce a prezzo pieno. Così, se dalla tipografia della Banca Centrale Europea escono 10 miliardi di euro per l'Italia, quei pezzi di carta sono 10 miliardi di debito per gli italiani. È talmente vero da non crederci, talmente semplice da essere incredibile. Riepilogo, c'è un privato che stampa e prese il denaro, uno Stato che accetta tale truffa colossale, milioni di persone costrette, pertanto, a non avere cura adeguate, un'istruzione di livello, una giustizia funzionante, trasporti efficaci, in particolare al Sud, e un controllo del territorio contro i pericoli di scasso, scippo, furto e mafia. Pericoli che in una situazione del genere aumentano a dismisura. Perché il Governo fa le sue riforme distruggendo la Costituzione, il Parlamento e i diritti fondamentali? Perché negli anni 90 la sanità fu data alle regioni che, riempite di poteri e private di controllo, ebbero le condizioni ottimali per gli odierni scandali dei rimborsi consigliari? Quali sono i vantaggi della sottoscrizione del meccanismo europeo di stabilizzazione della finanza pubblica, per cui abbiamo sborsato oltre 125 miliardi di euro per aiuto agli Stati europei, il cui debito nasce dal ruolo abusivo della Banca Centrale Europea? Da un lato il sistema pubblico è stato smantellato dagli anni 90, con vantaggi ai privati che hanno comprato a quattro soldi le aziende di Stato. Dall'altro il sistema è stato concepito, in modo da squalificare la politica e sostituirla con la tecnocrazia, in modo da legittimare i tagli che oggi stiamo vivendo tra incertezze e paure. È falsa l'idea che la crisi sia nata all'improvviso e che perciò sia necessario tagliare, ridurre l'apparato pubblico ai minimi termini. Mi chiedo, chi se ne è giova? Quali sono i vantaggi per i singoli e per la comunità? Che cosa abbiamo in cambio del debito pubblico? Se io compro un cellulare a debito, ho un apparecchio, un oggetto, un bene materiale. Che cosa c'è in cambio del debito pubblico? Ci sono ospedali, università, strade, biblioteche? Perché il debito aumenta ogni giorno e ogni giorno arrivano tasse e tagli? Lo Stato non c'è più perché con l'attuale sistema monetario, che produce debito all'infinito, non è possibile promuovere condizioni di eguaglianza, favorire gli studenti capaci e meritevoli, tutelare gli indigenti, assicurare una buona sanità pubblica, amministrare la giustizia in nome del popolo, sostenere i più deboli, combattere le mafie, pagare i fornitori dell'amministrazione, creare occupazione, garantire esistenze dignitose e mantenere l'ordine pubblico. Perciò oggi mettiamo il Governo con le spalle al muro e vogliamo una risposta. Gli chiediamo di non sopprimere su due piedi le prefetture di confine. Siamo consapevoli che dietro a questa operazione c'è soltanto un taglionetto senza una riorganizzazione efficiente. I criteri che avevate previsto per la riorganizzazione di prefetture e questure erano contenuti nella legge delega alla legge di riforma della pubblica amministrazione, quella cosiddetta legge Badia. Bene, questi criteri sono stati del tutto disattesi dal vostro piano di riduzione, così come l'avete presentato. Chiediamo di rivedere con urgenza questo piano di razionalizzazione, specie in territori come Rieti o come Vibo Valencia, la cui chiusura toglierà presidi di ordine pubblico e creerebbe ulteriore vuoto istituzionale imperdonabile in questo caso, aumentando il caos, la disperazione degli abitanti, il degrado e la scomparsa dello Stato. Ovviamente, in questo caso, l'andrangheta e la delinquenza ringrazierebbero sentitamente. Grazie, onorevole Nesci. Onorevole Scalfarotto, sottosegretario di Stato, a facoltà di rispondere. Signor Presidente, onorevole Nesci, con l'interpellanza all'ordine del giorno, appunto, l'onorevole Nesci, unitamente ad altri deputati, chiede, tra le altre cose, di rivedere in particolare l'annunciato piano di riduzione di 23 prefetture e delle corrispondenti questure e comandi provinciali dei vigili del fuoco che è stato elaborato dall'amministrazione dell'interno. Preliminarmente, vorrei precisare che il piano a cui fanno riferimento gli interpellanti è contenuto in un provvedimento che rappresenta un tassello fondamentale della più ampia manovra di ridefinizione degli assetti organizzativi a livello centrale e periferico di tutte le amministrazioni dello Stato prevista dal Decreto-Legge 95 del 2012, meglio conosciuto come Spending Review. Il provvedimento, ancora in forma di schema, che riguarda l'amministrazione dell'interno, si scrive dunque in questo vasto processo di riforma e sconta, peraltro, anche nei tempi di adozioni le alterne vicende che hanno connotato l'Istituto della Provincia. Per lungo tempo, infatti, la manovra riorganizzativa del Ministero in questione è stata legata alla contestuale ridefinizione della geografia delle province. Solo dopo la legge di riforma del 2014, conosciuta come Legge del Rio, si è riproposto il tema della riorganizzazione del Ministero dell'Interno svincolato dal destino dell'ente intermedio. Si precisa anche che, in forza dello stesso meccanismo della Spending Review, all'amministrazione inadempiente, nel senso che non adotta gli atti che ne definiscono il nuovo assetto organizzativo, è preclusa la possibilità di assunzioni. Si può agevolmente immaginare l'impatto critico che tale vincolo rappresenta per una macchina complessa come quella dell'interno. Quanto alle rigadute negative paventate dagli interpellanti sulla risposta dello Stato nelle aree oggetto di accorpamento, a tal proposito essi citano il caso delle prefetture di Vibo Valencia e di Rieti, si garantisce che l'applicazione dei principi della Spending Review non potrà mai andare a scapito della sicurezza reale dei territori e più in generale dei servizi resi alla cittadinanza. Non una sola unità di personale sarà sottratta ai servizi di istituto e ai compiti operativi, con la conseguenza che le comunità manterranno intatti gli standard di sicurezza, di soccorso pubblico e di qualità degli altri servizi. Infatti, lo schema di provvedimento tocca i livelli di vertice e di comando territoriale, ma mantiene inalterato, e non potrebbe essere altrimenti, il dispositivo organico che attiene la consistenza dei presidi. Quindi una riorganizzazione che va a tagliare la parte alta dell'organizzazione, ma non la presenza capillare dello Stato sui vari territori. Quindi nessun vulnus è stato compiuto nei confronti degli apparati preposti alla sicurezza dal soccorso. Comunque, si sottolinea che l'iter di approvazione del provvedimento è solo agli inizi. Nessuna proposta di organizzazione è stata ancora formalizzata e quindi nessuna decisione definitiva è stata assunta sulle prefetture e sulle corrispondenti questure e comandi dei vigili del fuoco da accorpare. Si ricorda poi che la procedura di approvazione dello schema del provvedimento in questione prevede l'acquisizione del parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, che potranno quindi fornire il loro prezioso contributo di analisi e di proposta. Occorre infine tenere presente che su questo disegno di riforma attuativo della Spending Review si è venuta ora a innestare anche la legge Madia, quindi la riforma della pubblica amministrazione, che contiene, come è ben noto, disposizioni volte a riorganizzare l'intera presenza dello Stato sul territorio. Il nuovo articolato, dunque, pur prefigurando la riduzione del numero delle prefetture, ne rafforza la funzione strategica, come attestato dal fatto che esse andranno ad assorbire tutti gli uffici periferici dello Stato e si configureranno quindi come punti di contatto unico tra lo Stato e i cittadini. Le prefetture continueranno inoltre ad essere il cardine del sistema territoriale della sicurezza. Grazie. Lei ringrazio. Onorevole Nesce, facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta. Prego. No, Presidente, non sono soddisfatta della risposta, soprattutto perché questi tagli e la Spending Review di cui ha parlato il sottosegretario Scalfarotto non tocca, soprattutto non spiega, non ne spiega le cause reali, non le può mai spiegare, ovviamente perché voi, come altri governi precedenti, agite su ordine delle massonerie finanziarie che ancora oggi affamano i cittadini comuni per arricchire le banche. Non se ne è servita nemmeno molto la risposta diciamo dal tono burocratico del sottosegretario. La verità sta altrove. innanzitutto questo governo non ha previsto alcuna riduzione per esempio della elefantiaca macchina burocratica centrale ma soprattutto la verità è che questo governo quando anche ne discutiamo nelle commissioni di riferimento dei temi di cui stiamo trattando non considera mai le istanze dei territori né tantomeno risponde al popolo sovrano rappresentato dai parlamentari. Lei sa bene che Rieti la cui prefettura si vorrebbe sopprimere verrebbe lasciata nell'oblio perché poi quella a cui verrebbe accorpata sarebbe troppo lontana che Vibo Valencia per cui si profila la stessa sorte va sprofondando ed è l'ultima provincia l'ultima in tutte le classifiche di ordine economico e sociale giusto così una breve digressione nel marzo scorso chiamai direttamente al telefono il sottosegretario Bocci perché i dipendenti dell'ente provincia erano da messi senza stipendio sollecitai il saldo dell'ultima rata del fondo dell'equilibrio che avrebbe dato loro un po' di respiro proprio perché questo governo non vuole mai spingersi per approvare il reddito di cittadinanza il sottosegretario Bocci mi disse che l'interno non avrebbe attivato soluzioni di tampone per le difficoltà di quei lavoratori e delle loro famiglie come già aveva anticipato il deputato censore invece del PD suo compagno appunto di partito di squadra nel territorio vibonese c'è stata una catastrofe una perdita impressionante di attività produttive di posti di lavoro in un'area colonizzata dall'andrangheta che ammazza che inquina compra e penetra nelle istituzioni e con la disoccupazione in aumento ingrossa il proprio esercito di manovale e di sentinelle spesso la gente operosa in quell'angolo di mezzogiorno non ha alternative tra la fame e l'infamia lei lo sa lo sa come tutto il governo che non si è mai degnato di rispondere ai nostri continui appelli per il sud un sud che ha bisogno di stato e di nient'altro ormai un sud irriconoscibile impastato e succube come ha mostrato la vicenda del viadotto autostradale Italia per mesi rimasto chiuso a nord della Calabria oggi lo Stato cosa toglie fuori dal cilindro priva il territorio dei presidi indispensabili completando l'opera di disertificazione che in quel pezzo d'Italia conduce in modo assolutamente scientifico state puntando tutto sull'emigrazione questa è la verità penso anche al distesso idrogeologico nell'Alto Ionio Cosentino ai veleni del cimitero industriale crotonese ai collegamenti stradali e ferroviari sempre più scarsi e attempati penso all'area portuale di Gioia Tauro e all'intera piena circostanza penso alla distruzione della sanità che state ultimando con i vostri commissari ad acta scura e urbani responsabili di abusi plurimi e del mancato rispetto delle sentenze definitive noi del Movimento 5 Stelle non permetteremo che il governo racconti la menzogna perpetua della riorganizzazione efficiente dei settori pubblici perché voi non avete in realtà un progetto di riordino non ce l'avete in alcun ambito così come la legge del Rio che lei ha citato poco fa tagliate e basta perché da Francoforte vi chiedono di stringere i cordoni della borsa e di colpire la massa soprattutto nei posti più abbandonati e in difficoltà tagliate lo state facendo in sanità trasformando i tagli in mancati incrementi di risorse e ritenendo le TAC inappropriate ancora prima di conoscerne il risultato tagliate e basta e non ultimo lo state facendo con la grande illusione delle assunzioni della scuola che avete ridotto a fabbrica di un sapere minuto settoriale chiuso nella logica bancaria del debito credito tutto ciò dopo che con la mano dei vostri sodali avete rivalutato le quote della Banca d'Italia forse questo se lo ricorda il sottosegretario Scalfarotto passando da 156 mila euro a oltre 7 miliardi in modo che lo Stato non le possa più riprendere state pur certi quindi di una cosa che grazie al Movimento 5 Stelle il popolo può sapere può conoscere e di certo non dimentica grazie a tutti